La cosa più importante, adesso che mi sono rimesso in forma, la cosa più importante è non perdere la forma. Segni particolari bellissimo, in 28 anni di carriera Lorenzo Flaherti ha dimostrato tra televisione, teatro e cinema che oltre a quel sorriso accattivante e gli occhi color cielo è un attore di estremo talento che ha costruito la sua fama più sulla qualità delle interpretazioni che sull'aspetto fisico. Attore istrionico raffinato e di grande intensità interpretativa apprezzato dai più importanti cineasti italiani il debutto nel 1986, da quel momento Lorenzo di successi ne ha collezionati davvero tanti quelli più importanti grazie alla bella fiction dove è diventato un volto familiare per molti italiani. Antidivo della televisione italiana non tutti sanno che una delle maggiori passioni di Lorenzo soprattutto quando è lontano dal set e la cucina. Ogni tanto cerco di fare insomma qualcosina quando ho tempo però le cose che mi riescono forse di più in maniera più semplice sono i classici primi, i primi piatti nostri insomma. Ultimamente l'abbiamo apprezzato come ballerino provetto nel talent show di Raiuno ballando con le stelle, una sfida che Lorenzo ha superato a pieni voti e che lo ha fatto apprezzare dal pubblico anche per il suo lato simpatico, giocherellone e la voglia di rimettersi sempre in gioco nella vita.